Molti consigli, assisti il fuoco di quest'opera che sia parte delle acque perenni e che sgorghino nei mari solcati dai venti Borea e Noto. Proteo, accaretta i nostri intenti tu che conosci le cose che sono, accaretta i nostri intenti tu che conosci le cose che furono, accaretta i nostri intenti ed accompagnaci nelle cose che saranno. Finché l'acqua, generatrice di vita, spaccherà la roccia per farsi limpa sotto i raggi di Helios, noi ti invochiamo proprio. Vieni ai celebranti tuoi sacri propositi, profitti alle opere a cui ci apprestiamo accompagnando a compimento la nostra vita.